Ma allora mi ami? Ma quanto mi ami? E mi pensi? Ma quanto mi pensi? Ma quanto mi costi? Sei in teleselezione. Mamma, la sera dopo le sei e mezza costa meno. Ah davvero? È vero, dopo le diciotto e trenta, tre minuti in teleselezione da Milano a Catania, ad esempio, costano come un cono gelato. Ma allora mi pensi? Ma quanto mi pensi? La teleselezione conviene. Dopo le diciotto e trenta e nei giorni festivi conviene di più. Grazie.